Le inefficienze e le incapacità sono ormai all'ordine del giorno dell'operato del Ministero dell'Istruzione. Io mi auguro che non ci siano altri rinvii, mi auguro che vengano rispettati i termini dei tre giorni per la scuola primaria e anche quelli successivi di agosto per la scuola secondaria di primo e secondo grado. La dignità dei docenti credo che sia stata calpestata fin troppo ormai in questo Paese. Grazie. La ringrazio Onorevole Pannalale. Ovviamente quanto da lei detto resta agli atti dell'Assemblea, poi in più se si vuole procedere con un atto di sindacato ispettivo e sollecitarlo, la Presidenza chiaramente si farà parte dirigente in questo. Do lettura dell'ordine del giorno alla seduta di venerdì 29 luglio 2016, ore 9.30, a svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta. Grazie. 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 Grazie.